Sono qui con mia figlia Desiree e l'anno scorso, a marzo, ho donato un rene. È stata un'esperienza molto positiva sia per me che per lei, che stava in dialisi da otto mesi. Lo rifarebbe subito Cristina, che nella scelta di donare un rene a sua figlia Desiree, ha scelto anche la gioia di vederla tornare ad una vita di prospettive e sogni da realizzare, come la recente laurea in medicina veterinaria. L'importanza della donazione, in particolare del trapianto di rene da vivente, è stato al centro di un incontro aperto alla cittadinanza organizzato ad Ancona dal Centro Trapianti Regionale delle Marche, diretto dal dottor Benedetto Marini presso l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Un trapianto effettuato con una procedura ormai consolidata. Sono all'avanguardia, utilizzano tecniche minioinvasive, anche perché questo riduce i rischi, i problemi, la fase post-operatore e anche le difficoltà che in post-operatore a volte possono esserci. Un lavoro che vede coinvolte moltissime professionalità, ma che non sarebbe possibile se alla base non ci fosse chi sceglie di donare. Un gesto di generosità che conta un numero sempre maggiore di testimonianze, come quella di Angela, che quattro anni fa ha donato un rene a suo marito Luigi, prima ancora di essere costretto alla dialisi. Stava male, doveva fare dialisi, ma io non gliel'ho fatta fare perché mi sono adoperata prima che lui arrivasse al limite. Sono stata bene, mi sono operata, dopo quattro giorni stava a casa, mio marito è arrivato la settimana dopo e io lo rifarei perché lui sta bene, io sto bene e la nostra vita è continuata tranquillamente. Un incontro che si è chiuso con un momento musicale, quasi a voler sottolineare il valore dell'impegno corale di medici, infermieri e donatori. Un coro per la vita, come lo ha definito il dottor Marini, dove ogni voce è indispensabile.